Giorno 3 di preparazione del Campobasso nuovo di Zecca costruito da Minadeo e Cappellacci. Già sabato scorso, giorno inaugurale dei lavori, qualche tifoso incuriosito da un organico nuovo quasi nella sua interezza aveva assistito ai lavori del nutrito gruppo di giocatori rosso-blu. Cappellacci è tecnico esigente, pretende la massima concentrazione dai suoi e che i lavori stessi si svolgano ad un'intensità molto alta. Il tecnico del Campobasso ha deciso di fare amichevoli a cadenza settimanale ma con avversari non troppo impegnativi. Già sabato pomeriggio prossimo è in agenda una sgambatura con i Reds Campobasso, squadra impegnata nel campionato di prima categoria. Al gruppo si è aggiunto l'Under Class 96 esterno di difesa Di Pasquale lo scorso anno impegnato nel Giulianova. Tra mercoledì e giovedì si legherà ufficialmente al Campobasso anche il mediano Andrea Censori che attualmente è all'estero per il viaggio di nozze. In realtà lui a nozze già ci è andato con il Campobasso lo scorso 29 aprile quando realizzò questo gol ai rosso-blu Alfadini di Giulianova. La gara fu poi pareggiata da Todino per il definitivo 1-1. Da oggi parte la campagna abbonamenti del Campobasso. La società si attende una buona risposta del pubblico a fronte di un impegno di energie umane e finanziarie non indifferente. Si parte dichiaratamente per tornare tra i professionisti categoria abbandonata nel 2013 causa fallimento della società presiduta da Capone. Un mese circa al primo impegno ufficiale di Coppa Italia previsto per il prossimo 23 agosto per chi volesse aspettare le prime uscite ufficiali prima di dare la sua adesione in termini di abbonamento alla stagione 2015-2016. Se dovesse essere confermata la permanenza delle Molisanne nel girone F della Serie D ecco che a lottare con il Campobasso ci sarebbe anche il Fano di Alessandrini. Novità proprio nelle Marche dove si sta ricucendo il rapporto con il valido portiere senior Ginestra, ex Ternana Foggia Livorno. Il Fano dunque abbandona l'idea di giocare con l'estremo difensore Under. Lo stesso Ginestra sembrava ad un passo dallo Spoleto. La società marchigiana ha definito pure la trattativa con il difensore centrale classe 89 Andrea May aggregato pure alla prima squadra dell'Inter di Murigno nella stagione 2010 per poi transitare in Serie B al Crotone nell'anno successivo. Di fatto il Fano è la stessa squadra della scorsa stagione puntellata con qualche innesto mirato come quello dell'interessante esterno d'attacco ex San Nicolò Maurizio Chiacchiarelli. Intanto ieri su Sky è andata in onda un'intervista che può essere definita quasi un evento quella del molisano Vittorio Esposito fresco d'ingaggio del Pescara. Esposito solitamente molto restio a microfoni e tacquini si è concesso ai microfoni di Sky. Al notevole progresso di categoria si deve accompagnare anche una maggiore disponibilità nella comunicazione. Da parte nostra un grosso in bocca al lupo a Vittorio per la sua avventura tra i cadetti.